Sicuramente ci siamo ripresi dal brutto periodo che stavamo vivendo in precedenza. Adesso vogliamo andare a Udine a fare i tre punti per chiudere bene il campionato e finire anche con il Genova qui in casa al meglio e fare sei punti in queste ultime due gare. Sarà una partita complicata perché comunque loro sono una buonissima squadra, con delle buone individualità, però noi vogliamo andare là, fare la partita, cercare di imporre il nostro gioco e vincere possibilmente. Fino a due mesi fa non avrei mai immaginato di debuttare in Serie A e giocare anche contro il Milan, però lo sto vivendo molto tranquillamente, continuo a fare le mie cose, vado a scuola la mattina, vengo ad allenamento senza stravolgere il mio stile di vita. Mi hanno tutti fatto i complimenti, i compagni, i prof, però quando si è a scuola, dato che è il mio ultimo anno e devo fare gli esami, devo tentare di concentrarmi esclusivamente su quello, anche se è abbastanza difficile. Maturità, ci arriviamo un po' in ritardo con il programma, un po' indietro, però adesso il 31 maggio finisce il campionato e poi testa alla scuola e pensiamo a fare bene questa maturità. Ma sicuramente il primo che mi viene in mente è il grande Gianni Soli, che mi prese qui a Sassuolo quando avevo 11 anni e fu proprio lui a volermi, a costruire la prima squadra in cui giocai. Poi ovviamente tutti i vari mister con cui ho giocato e che mi hanno allenato, che mi hanno aiutato a crescere nel mio percorso e poi tutta la dirigenza, tutti i compagni con cui ho sempre giocato. Io ormai sono qui a Sassuolo da otto anni, mi trovo benissimo, quindi spero e desidero di rimanere qua a Sassuolo. Poi ovviamente non so ancora nulla a fine stagione, vedrò, parlerò con il procuratore della società e vedremo cosa fare. Mi fanno molto piacere i complimenti del mister, li ho sentiti nell'intervista, però so benissimo che devo migliorare molti punti di vista tecnico, fisico, tattico, quindi bisogna mettersi testa bassa e lavorare in allenamento fino alla fine della stagione, poi si vedrà l'anno prossimo. Il mister è uno che sa comportarsi molto bene con i giovani, è bravo a farli integrare all'interno del gruppo e quindi da questo punto di vista è stato, tra virgolette, facile riuscire ad integrarmi con la squadra. Poi ovviamente quando uno deve giocare, sa di partire titolare, c'è qualche pressione in più, bisogna stare più attenti a non sbagliare certe cose, perché in Serie A non ti perdonano niente. Personalmente è stato più difficile debuttare, comunque col Milan mi sentivo più a mio agio, ero più tranquillo nel giocare quando avevo la palla. Il debutto invece è la prima volta che scendi in campo, in Serie A e sei agitato, sei molto agitato. In primavera ho sempre giocato centrale, sempre fatto il centrale di difesa da quando ormai ho 11 anni, però quando sono arrivato qua il mister mi ha chiesto se sapevo fare il terzino, gli ho risposto che per star qui mi sarei adattato anche a fare il terzino e da lì sono passato laterale. Qui ci sono dei giocatori molto forti come Acerbi, Cannavardo, a cui bisogna prendere soltanto spunto per la professionalità e diciamo che mi ispira loro.